Bibliohub Il Bibliohub è stato progettato da Alter Studio Partners per Associazione Italiana Biblioteche nell'ambito della mostra Taking Care in occasione della quindicesima mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia e sosterrà nelle periferie di diverse città d'Italia al servizio delle biblioteche locali. Il Bibliohub è uno scrigno che si apre e si espande verso l'esterno per attività all'aperto. In un laboratorio che Guido Scarabottolo ha tenuto in una biblioteca di Milano tante persone hanno disegnato il proprio autoritratto. Scarabottolo ha poi ricomposto l'immagine di questa variegata comunità. Dopo un anno di raccolta fondi e un lungo lavoro di progettazione e ingegnerizzazione, il Bibliohub è diventato realtà. Realizzato grazie al crowdfunding avviato con la mostra Taking Care e al finanziamento della Direzione Generale Arte, Architettura Contemporanea e Periferia Urbane del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e grazie anche al contributo dell'ambasciata americana a Roma e dell'azienda speciale CSBNO Culture, società biblioteche e network cooperativo, con la sponsorizzazione tecnica di Linealite, Media Library Online e Promal. Così il Bibliohub è diventato realtà e nell'estate del 2018 ha iniziato il suo viaggio per le città italiane partendo dal sud Italia. Dalla Sicilia alla Calabria, dalla Puglia alla Campania fino a Roma per poi risalire verso il nord Italia accolto con molta curiosità, simpatia e interesse dalla popolazione locale, da adulti, bambini e ragazzi. Oggi più che mai c'è bisogno di presidi grandi e piccoli, di cultura, partecipazione, inclusione e coesione sociale. Oggi più che mai è necessario prendersi cura del bene comune per consolidare i valori che devono essere la base di una comunità. Quella comunità che è rappresentata dai volti incisi nella lamiere retroilluminata di uno dei lati del Bibliohub. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!